Francamente non mi sento né di destra né estremista. Detto questo, ieri è stata una grande giornata per l'Italia, nel senso che approvare poi il dibattito, gli emendamenti, sicuramente le tematiche che ognuno ha portato all'interno di questa, o ha provato a portare all'interno di questi due grandi provvedimenti, sono discussi, dibattibili, assolutamente, però la vera notizia è che sono stati approvati, grazie al lavoro di tutti, il revenge porn, cioè la vendetta attraverso social media e non solo, con la diffusione di foto, filmati, eccetera, eccetera, con delle pesanti conseguenze nei confronti di chi commette questo reato, e del codice rosso, che è un aiuto sostanziale, che speriamo tutti quanti, almeno questo è il nostro auspicio, possa dare un vero contributo a combattere una piaga, una piaga sociale, perché di questo stiamo parlando, che è appunto la violenza sulle donne. Partendo da questo, tocchiamo chiaramente alcuni argomenti che sono stati inseriti, e io sono ben contento che si parli con buon senso, con pragmaticità, di alcune proposte. Proposte di destra? Non lo so, sono proposte, quindi se la ministra Grillo ritiene che siano proposte di destra, me ne farò una ragione. Sono proposte che da tempo noi abbiamo lanciato, anche nella campagna elettorale, se non le condivide, altrettanto, me ne faccio una ragione, vedremo se il lavoro parlamentare potrà portare alla discussione della possibilità di, su base volontaria, dare alle persone che si macchiano di reati così gravi, su base volontaria, di reati così gravi, di appunto chiedere una castrazione chimica, e quindi, ricordiamolo, ci sono dei condannati, ma ci sono anche persone che non sono condannate, ma che chiedono, si rendono conto di avere dei grossi problemi, dal punto di vista psicologico, a volte psichiatrico, che chiedono di avere questa opportunità per evitare di creare delle vittime e poi essere loro stessi chiaramente, giustamente condannati. Se noi possiamo evitare le vittime, io non penso che sia un ragionamento di destra, io penso che sia un ragionamento giusto. Quindi lo verrà riproposto? Certo. Migliore, cosa c'è che non...